ABC di YouTube ben trovati da Marco Liguori in questo video parliamo del dramma per il famoso attore ma non stiamo parlando di un attore qualsiasi stiamo parlando di uno degli attori più importanti al mondo se non il più importante di tutti e prima di sapere di più ricordo che qualora questo video dovesse superare i 200 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo il mondo del cinema è in ambasce per ciò che sta accadendo ad una vera e propria leggenda vivente del grande schermo stiamo parlando dell'unico inimitabile e inarrivabile Bruce Willis Bruce Willis fa parte di tutti quanti noi tutti quanti noi ci siamo emozionati per i suoi grandi film capolavori e pietre miliari che rimarranno indelebili nella storia del cinema come non menzionare film straordinari come Die Hard i mercenari il sesto senso e scrivete nei commenti solo a titolo di informazione qual è il vostro film di Bruce Willis che preferite il mio amici di youtube è il sesto senso detto questo ci focalizziamo sull'attualità diciamo che Bruce Willis si è ritirato dal mondo del cinema a causa dell'afasia di recente anche grazie alle dichiarazioni della moglie la supermodella Emma Heming abbiamo appreso che Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale avvalendoci di wikipedia diciamo che la demenza frontotemporale è una malattia che colpisce principalmente la parte frontale laterale del cervello e causa anormalità del comportamento della persona del linguaggio e del movimento questo in parole povere ciò che sta accadendo a Bruce Willis c'è tanta preoccupazione c'è tanto sgomento tra i tanti fan e parafrasiamo alla fine di questo video le toccanti parole proprio della moglie la 44enne Emma Heming che ha dichiarato in questo momento terribile l'unica nota positiva è stato il calore la vicinanza che i tanti fan e amici hanno dimostrato a Bruce tutti quanti amano Bruce e speriamo che qualcosa accada speriamo che qualcosa accada e quello che dice anche il secondo canale di Marco Licuori intanto ringraziamo Bruce Willis per le tante emozioni che ci ha regalato nel corso degli anni amici youtube io vi ringrazio per l'attenzione attendo i vostri commenti per iniziare un'interessante discussione il primo commento come di consueto è del sottoscritto lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale e condividete questo video